Che l'Europa non funzioni, devo dire, al di là della flag tax, è un po' l'indice del disagio di cui parlava prima il direttore. Ma la cambierete con Orban, così ha detto Salvini, poche ore, un paio d'ore fa. L'Europa? Sì. Ma l'Europa la cambieremo con Orban, la cambieremo credo anche insieme a tutti gli altri partner. Io penso che sul tema del cambiamento dell'Europa ci sia un certo grado di consapevolezza anche da parte degli altri partner europei, cioè non è un problema solo italiano o solo ungherese o solo di alcuni, è un problema un po' generalizzato. Abbiamo voluto fare un'unione monetaria, soprattutto quella monetaria parlo, quindi 19 paesi che hanno un'unica moneta ma non 19 economie differenti. In Lussemburgo lo stipendio medio è di 3.000 euro, in Estonia di 900 euro. la disoccupazione è in Austria al 5%, in Portogallo è al 13%. Cioè sicuramente sono dei parametri che andrebbero unificati e uniformati. Eh sì, perché certo, è evidente, cioè dobbiamo pensare che l'Europa è stata fatta tanti tanti anni fa e le cose cambiano e se tu non stai al passo con i tempi e non sei in grado di cambiare le cose, poi si disfano. Abbiamo avuto un esempio molto bello, di recente c'è stato il matrimonio dei due principi del UK, c'è stato questo matrimonio e lì si è vista questa grande monarchia antichissima britannica che di volta in volta mostra come è capace di stare al passo con i tempi e quindi a resistere. Se invece si fosse arroccata, come era nel 500, nel 600, nel 700, probabilmente non ci sarebbe più. I temi sono questi, flat tax e reddito cittadinanza. Se veramente Siri riesce a fare una flat tax, Al, quanto è adesso? 15 e 20, no? 15 e 20. 15 e 20, io mi attengo a quello che è scritto nel contratto, quindi 15 e 20, però voglio dire una cosa, la dichiarazione di Bagna è stata un po' strumentalizzata perché è evidente che quando lui diceva vogliamo partire con la flat tax per le imprese, intendeva la flat tax, cioè l'aliquota che noi proponiamo. Poi qualcuno, un po' qualche professore che voleva mettere i puntini sulle iglie ha detto no, ma la flat tax esiste già per le imprese, certo che esiste già, si intendeva l'aliquota, quindi era una facilitazione comunicativa, perché non è che tutta la gente che ascolta sa che esiste una flat tax che è lire e poi liri e poi c'è lire. No, no, non ci andiamo neanche a dire, no, è difficile spiegare, perché se no c'è la domanda che la faccio però è, ma se la flat tax comportasse un aumento dell'IVA, andrebbe bene lo stesso? No, non andrebbe bene lo stesso, noi non siamo assolutamente dell'idea che l'IVA possa aumentare a vantaggio di una riduzione dell'aliquota sulle imposte dirette, questo no, perché il sistema... Ma tanti all'interno, sempre di più, anche economisti all'interno della vostra maggioranza dicono che tutto sommato aumentare l'IVA non sarebbe poi una cosa così grave e non potrebbe comportare per forza una recessione? No, siamo in una situazione di domanda al palo, se io aumento l'IVA sui consumi senza aver dato il tempo alla flat tax di aver generato una certa tipo di reazione, rischio di andare in una contrazione... Dovendo scegliere tra l'una e l'altra cosa, mettiamo che non sia possibile non aumentare l'IVA per fare la flat tax, preferisce fare la flat tax o preferisce tenere bassa l'IVA? No, io penso che ci sia lo spazio sia per mantenere l'IVA alle condizioni attuali, sia per fare una flat tax di cui abbiamo bisogno. Ci siamo presentati davanti agli elettori, abbiamo detto che facevamo la flat tax, tocca a noi andare in Europa, tocca a noi trovare gli strumenti e tocca a noi finalmente decidere che in casa nostra cerchiamo di fare il bene dei nostri concittadini, questo senza mettere in discussione, senza rompere, ma noi andremo per la prima volta in Europa a chiedere e a presentare un progetto di riforma strutturale. Io sentivo prima parlare del tema del deficit, della paura del deficit, ma guardi che negli ultimi cinque anni tutti questi governi hanno chiesto la flessibilità sul deficit, ma l'hanno chiesta per provvedimenti tampone, perché bisognava sistemare una cosa, bisognava raccogliere gli immigrati, bisognava fare... Cioè bisognava mettere... Noi andiamo con una riforma strutturale di sistema che è volta alla crescita del paese. Quindi io penso e sono ottimista in questo e ho fiducia che anche in Europa noi troveremo sostegno per questa nostra iniziativa. Io ho una battuta, poi devo andare al professor Celotto, perché mi dava... Ma quando entrerà in vigore questa flat tax? Beh, entrerà in vigore con la legge di bilancio nel 2019. Poi per le persone, lì c'è stato un po' un equivoco, perché mentre per le imprese c'è un passaggio solo di alicota, quindi si passa dal 24 al 15 ed è facile, per le persone abbiamo bisogno di scaglionare bene perché è molto complesso, perché partiamo da un sistema progressivo con cinque aliquote, cinque scaglioni, con un meccanismo di... Ecco, insomma, diciamo che ci vuole un po' perché arrivi a regime, ma parte subito. E le partite IVA? Le partite IVA sono comprese, assolutamente. Subito, anche loro, partono da subito. Cioè, partite IVA, società di persone, società di capitali e anche le famiglie da subito con però un meccanismo di andata a regime che ha bisogno del suo tempo perché abbiamo la salvaguardia, perché ci sono numerosi contribuenti che pagano un'aliquota molto piccola per cui vanno sterilizzati, poi ci sono gli scaglioni con le famiglie, insomma è un lavoro su cui stiamo mettendo le mani adesso e richiede un po' di tempo. Anche perché richiede tempo di... Però vedo, come dire, un certo gradualismo esplicito nell'articolazione... Prudenziali? Sì, nell'articolazione dei progetti, mi sembra di aver capito che prima di due anni non ci saranno grossi shock, cioè i cittadini che hanno votato 5 Stelle e Lega devono aspettarsi degli interventi immediati, ma la prospettiva è un pochino più graduale, sbaglio? Ma ogni cosa ha bisogno della sua gestazione, è un po' la sindrome del fratellino, nel senso che c'è la mamma che aspetta un bambino, il fratellino che gli dice allora, allora, ma questo bambino, questo bambino dov'è, ma hai detto che c'era il bambino, e la mamma gli dice ma dagli il tempo perché è dentro la pancia e deve nascere. Cioè le cose vanno germinate, come abbiamo fatto, e poi c'è un tempo, come dire, naturale perché possano nascere, perché possano, di gestazione, perché possano realizzarsi. Quindi adesso noi siamo all'opera, abbiamo germinato questo governo del cambiamento, il governo del cambiamento ha bisogno di avere il tempo per produrre i frutti che ha germinato. Quindi secondo me il governo deve scegliere cosa vuol fare e quando, perché non si può fare tutto. Senatore? Beh, in realtà i mercati sono molto fiduciosi del fatto che noi vogliamo fare una grande riforma fiscale in Italia. Non vedo un quadro di preoccupazione internazionale. Io sono stato a Londra, ho incontrato tantissimi rappresentanti, tra l'altro i principali che investono anche nel nostro debito pubblico, e devo dire che c'è stata tanta curiosità, tanta attenzione e anche la volontà di essere partecipativi rispetto per la prima volta a quello che, come dicevo prima, è un progetto di riforma strutturale. Cioè i mercati sono interessati a sapere se noi siamo in grado di abbassare la pressione fiscale per le imprese e per le famiglie, perché questo per loro è un sintomo importante, strutturale e a lungo termine che dà garanzia ai loro investimenti in Italia. Quindi devo dire su questo che invece c'è molta molta attenzione e secondo me buona volontà, ma non voglio dire tutto adesso, vedrete che col tempo sicuramente ci saranno delle buone notizie anche da quel punto di vista. Io voglio provare a offrire una chiave di... Aspettare. La seconda cosa è che al di là di tutte le riforme strutturali, però, quel servizio prima che aveva fatto la bellissima collega parla da solo. Cioè, sì, noi possiamo decidere di provare a spingere sul reddito di cittadinanza, ma i centri per l'impiego sono quella roba lì ed è la continuità ministeriale di cui parlavamo prima. Cioè, quelli sono la nostra continuità ministeriale. Sono lì così dagli anni 80, da quando li abbiamo più o meno inventati e sono assolutamente non funzionanti. Quindi questa è, come dire, la gravità del governo. Ma infatti la sfida è proprio quella lì. Cioè, tu ci metti due miliardi dentro, bisogna vedere poi come li fai girare, perché l'impressione è che noi in questi anni comunque miliardi li abbiamo buttati nei centri per l'impiego e non hanno mai funzionato. Non ci si va proprio, non incontrano la domanda con l'offerta, non si incontra nei centri per l'impiego. Ma perché lo diceva giustamente bene il direttore? Cioè, non funziona perché c'è un atteggiamento ministeriale, c'è un atteggiamento per cui ma anche da parte dell'utente non c'è l'idea che tu vai lì e veramente puoi trovare un lavoro. Sembra uno scherzo. Capito? Cioè, tu vai lì perché o perché devi ricevere un'agevolazione o perché devi in qualche modo... Ma non c'è la vera idea che tu vai lì e poi effettivamente trovi il posto di lavoro. Dobbiamo invertire la tendenza. Io penso che il primo stanziamento seguirà non solo la parte diciamo economica ma la parte che è il concetto stesso del finanziamento, cioè una rivoluzione dei centri per l'impiego che devono diventare delle efficienti agenzie per il lavoro. Anche perché senza quelle premesse... La fa lunga, eh! Il lavoro che ti mette nelle condizioni di ricevere la formazione, di ricevere le proposte di lavoro, di avere i feedback che abbiamo detto. Ecco, quindi è chiaro che è collegato a un disegno un po' più ampio. Io mi volevo... C'è una fetta di mercato, miliardi persi e probabilmente non le recupereremo anche se le sanzioni verranno tolte, insomma. Le toglierete? C'è da dire però che gli italiani si dimostrano sempre estremamente creativi in tutte le circostanze quindi riescono veramente in ogni occasione a essere veramente... A reinventarsi, no? Un popolo pieno di fantasia. Guardi, l'Italia è un paese atlantico, sta nell'Alleanza Atlantica, sta nella Nato e ha da sempre un rapporto con gli Stati Uniti privilegiato. Questo è chiaro. Detto questo, noi abbiamo sostenuto in più occasioni che le sanzioni alla Russia sono un grave danno alla nostra economia. Penso che sia assolutamente legittimo affermarlo e penso che sia assolutamente legittimo cercare di capire nel contesto europeo e internazionale come ovviare a questa situazione. La Russia dovrebbe essere un partner contro il terrorismo, contro diciamo quelle forme di deriva islamista e estremista più che diciamo un nostro avversario commerciale perché gli facciamo le sanzioni. Quindi noi su questo pensiamo che le sanzioni alla Russia vadano cancellate. Detto questo, poi ripeto, noi cercheremo in tutti i modi, come sarà possibile, di convincere i nostri amici e i nostri interlocutori europei e americani che si può trovare una condizione di relazione differente perché questo ci sta penalizzando, l'abbiamo visto. Quando io vedo la mozzarella è fior di latte che la schiaccia e il latte non esce, sinceramente che mozzarella della fior di latte è, me la puoi raccontare finché muoio, ma poi, insomma, io voglio dire una cosa, io voglio dire che noi pensiamo a un'Europa dove si rispettano le regole, non un'Europa antimigrante. Cioè, noi vogliamo un'Europa dove si rispettano le regole. Tu puoi venire nel paese se hai le carte di regola per venirci. Non è che noi possiamo pensare che allora noi siamo contro l'Europa dei migranti perché diciamo che in questo paese non possiamo accogliere, abbiamo 160-170 mila persone in giro per i centri di accoglienza che rimangono stanziati lì e che non hanno futuro e che poi ci dobbiamo pensare noi a mantenerli. Insomma, mi pare che noi abbiamo tutto il diritto che vogliamo un'Europa dove si rispettano le regole. Qual è allora, anche qui adesso che finalmente si è arrivata al governo, l'idea alternativa? O l'Europa ci dà una mano oppure? Ma intanto io voglio immaginare che non ci sia uno pure. Cioè, io voglio immaginare che questa Europa... Però questo lo dice Salvini, no? Oggi ha detto... No, d'accordo. Io voglio immaginare che questa Europa che dispensa buoni consigli come Gesù nel Tempio, che ci ammonisce ogni due per tre perché non rispettiamo i parametri, perché siamo fannulloni, perché siamo di qua, siamo di là, abbia almeno la decenza di rendersi conto che questa è un'emergenza che va affrontata in comune. Se non lo si fa, si prenderanno i provvedimenti necessari. Quello che è sicuro è che oggi Matteo Salvini, ministro degli interni, difenderà i confini del Paese e lo farà con tutti i mezzi leciti consentiti. E uno di questi è quello di cercare di non far partire queste persone, perché nessuno mi viene a raccontare che queste persone partono con lo zaino sulle spalle così a caso, senza che ci sia un'organizzazione che faccia in modo che poi arrivino nel nostro Paese. Quindi è là che bisogna andare ad agire e oggi che ci sono le leve penso che il ministro lo farà. È al lavoro 24 ore su 24, credo in questi giorni... Beh, appena arrivato dovete ancora arrivare, quindi insomma diamogli un po' di tempo. Diamogli il tempo almeno di prendere. Io vorrei aggiungere solo una cosa... Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti